è bellissimo ma si sai che faccio? domani me ne vado a New York e Chicago scusi non la puoi fare a casa tua New York ma è certo mo o me un consiglio è aumentare un po' l'intelligenza secondo te vitamina D D? di chi? una da picchiazza sì ma di vitamina D? ci finisce il discorso? ne devi prendere assai proprio amore sì che mi dicessi se mi facessi un intervento? vorrei togliermi queste zampe di gallina e poi come cammino? e prete sei stato prezioso per così poco io vado scappo ok ciao ehi Uccio scusi vieni qua però ci vediamo sì è normale facciamo oggi? oggi no oggi no e domani? domani è peggio di oggi ci vediamo sabato sabato non ne parliamo proprio ma allora domenica no domenica è impossibile però ci vediamo sì quando vuoi ciao no domenica è sotto no domenica è sotto ho non domenica è sotto